Mani della Camorra sul ponte Morandi, un clan tra l'altro di questa zona, un clan d'amico. La Camorra non è soltanto una questione napoletana. Ma le mafie sono senza confini. Le mafie sono senza confini. Io da tempo e non da adesso dico che anzi negli ultimi anni le mafie sono più forti, più ramificate soprattutto da un punto di vista economico, politico e istituzionale da Roma in su. Anche perché nel mezzogiorno si sono creati anche grandi anticorpi sociali, civili, ma anche istituzionali, politici. La mafia è un tema nazionale e questa è l'ulteriore dimostrazione.